È una grande emozione per me vedere questa che è una delle più belle piazze barocche d'Italia che torna ad avere uno dei suoi monumenti identificativi nella bellezza del suo splendore non solo con la mano rimessa a posto, non solo con l'indice rimessa a posto ma soprattutto ripulita l'acqua all'insolo è il simbolo della freschezza, della gioia di vivere, della vulcanità